Diffondeva pubblicamente immagini che mostravano bambini anche di pochi anni durante atti sessuali espliciti con adulti, il tutto tramite l'utilizzo di un cloud con all'interno un link che non necessitava di alcuna password. E' accusato di pedopornografia un 45enne di Taranto, operaio arrestato dalla polizia postale di Foggia in esecuzione dell'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP del tribunale di Lecce. Le indagini sono state dirette inizialmente dalla procura di Bari e successivamente continuate da quella leccese. Al momento della perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti del 45enne sono stati ritrovati filmati ed immagini archiviati su diversi dispositivi anche telefonici oltre ad un cloud con all'interno un link per l'accesso ad altre cartelle fruibili pubblicamente e senza necessità di password per rendere più agevole la diffusione delle immagini. Tutto il materiale rinvenuto durante la perquisizione decisivo per l'emissione dell'ordinanza cautelare in carcere del 45enne Tarantino è stato sottoposto a sequestro.